Stappi, versi, bevi. Chandon Garden Spritz è un drink a base di spumante Chandon Brut, prodotto nella tenuta argentina di Mendoza, miscelato con un liquore ottenuto dalla buccia di arancia ed ha un mix di spezie ed erbe. Un aperitivo pronto da bere in un bicchiere con ghiaccio, fettina di arancia essiccata e rametto di rosmarino. Leggero e di grande freschezza. A realizzarlo, per la storica Maison del gruppo El Vu et Manche, è stata la trentena enologa argentina Ana Paula Bartolucci. Chandon Garden Spritz nasce nel 2017, osservando i consumatori al momento dell'aperitivo, dell'after office e del primo bicchiere della serata. Abbiamo scoperto che il denominatore comune di tutti questi momenti era l'elemento amaro della bevanda. Amaro che noi abbiamo trovato nelle arance, di cui l'Argentina è il secondo paese esportatore al mondo. Come produttori di vino volevamo poi che tutti gli ingredienti usati fossero trattati direttamente nella nostra cantina per riuscire ad esaltare le loro caratteristiche migliori. Dunque, nessun aroma o colorante artificiale, solo arance della varietà Valencia per il loro equilibrio tra dolcezza e acidità. Cannella, cardamomo, camomilla, rosmarino, tre tipi di pepe e altro ancora. Erbe fresche provenienti da Argentina e Brasile e spezie raccolte in Centro America, India e Madagascar. Ogni ingrediente viene macerato a lungo separatamente per poi finire miscelato con gli altri per dar vita al liquore. L'uso esclusivo di prodotti naturali e la loro lavorazione in cantina ha fatto sì che da un processo durato 4 anni siamo arrivati a questa 64esima combinazione che restituisce la freschezza e l'aroma di ogni singolo ingrediente facendone un prodotto assolutamente innovativo nell'ambito degli spumanti. Lo spumante utilizzato è un metodo Charmin realizzato con uve raccolte a mano sulle colline ai piedi delle Ande 40% Chardonnay, 30 Pinot Noir e 30 Sémillon a cui viene aggiunto un 2% di Malbec per rafforzare il colore. Garden Spritz è stato ideato come un prodotto completamente sostenibile. Le nostre arance sono al 100% biologiche certificate proprio perché noi utilizziamo le bucce e quindi non vogliamo che contengano residui di pesticidi. Sempre in ottica di sostenibilità doniamo il succo delle arance a diverse istituzioni e scuole che sorgono intorno alla cantina e con i residui della macerazione facciamo il compost che utilizziamo per fertilizzare i nostri vigneti in nome della circolarità dell'economia e del prodotto.